... Continuano senza sosta ad Amalfi i lavori per la messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana di mercoledì 2 febbraio che ha coinvolto il costone evaiendola la statale sottostante di Lungomare dei Cavalieri. Gli operai e gli addetti ai lavori stanno proseguendo con la loro opera che prevede oltre che la completa rimozione del materiale precipitato anche il disgaggio dei massi pericolanti. Intanto la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno avvalendosi dell'apporto dei carabinieri della compagnia di Amalfi ha individuato il consulente tecnico che si occuperà di accertare le cause che hanno portato all'evento franoso. Gli inquirenti ora avvaglieranno tutte le possibili cause della frana verificando se ci siano eventuali responsabilità penali in capo a parti terze. E mentre ad Amalfi si lavora il presidente della regione Campania Vincenzo Di Luca ha convocato per sabato 6 febbraio una riunione operativa con ANAS Protezione Civile ed il sindaco di Amalfi Daniele Milano per una valutazione aggiornata delle problematiche create dalla frana e per definire un ulteriore piano di interventi. Grazie. 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 Grazie.